Chiediamo rispetto per i ragazzini e le famiglie che rappresentiamo. L'orario assegnato per le lezioni ai nostri piccoli calciatori sono inadeguati alla loro età e alle loro esigenze. Così il presidente della società sportiva ASD Sapri Soccer School Cilento Ciria Colombardi sollecita con una lettera inoltrata al sindaco, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale e all'intero consiglio a promuovere un incontro per individuare le giuste soluzioni per un adeguato svolgimento delle attività sportive programmate dall'Associazione per la nuova stagione. Le mie PEC, ha precisato questa mattina a pagina il presidente Lombardi, continuano ad essere disattese. Anche l'ultima, quella inoltrata del 19 settembre scorso, attende risposte. Abbiamo inviato una PEC il 19 settembre scorso, l'ennesima PEC per la richiesta del nulla osta per i campionati che dovremmo svolgere nelle categorie quindi più piccole che sono i primi calci, i pulcini e i disordienti. Però ad oggi, che è il 30 di settembre, non abbiamo avuto nessuna risposta a questa PEC. In questo momento la scuola di calcio confida soprattutto in un incontro per rivedere l'orario. Secondo quanto stabilito dal comune, il campo è a disposizione dell'associazione il martedì e il giovedì dalle 17 in poi. Per i nostri piccoli calciatori, chiarisce Lombardi, sarebbe opportuno come per il passato dalle 15 alle 18. Iniziare alle 17 è davvero tardi per i bambini.